buonasera sono dentro in associazione perfetto quindi io sono arrivata dal veneto e ho conosciuto pontoni germano che mi ha ha fatto sì che mi scrivesse l'associazione pian piano sono entrata con loro e soprattutto all'inizio con le lady chef che la moglie era la responsabile in friulio venezia giulia da che parte sta andando la cucina marinella in friuli devo dire un po all'inizio per la televisione adesso no sta rovinando un po tutto però visto che da tre anni sono presidente regionale giro un po l'assemblea i consigli a livello nazionale il friuli è apprezzato tantissimo sta andando bene sta a noi anche comunque col lavoro che stiamo facendo sul territorio cosa state facendo di particolare facciamo con le varie tre pensiamo tre province trieste bordenone molta promozione con le scuole soprattutto il regionale diciamo ma un po tutti facciamo di delegare dei concorsi ragazzi giovani partecipano ai campionati abbiamo un bel numero di giovani che partecipano alle gare anche all'estero poi abbiamo corsi di alta formazione corsi anche per noi chi è l'uomo che può darci farci un tratto storico se c'è qualcuno che è più grande di me a chi si rivolgiamo scegli sergio mian sergio mian pontoni perfetto l'abbiamo c'è il microfono questa parte perfetto allora andiamo da sergio mian un attimo buonasera buonasera e allora ma gianni cosetti gianni cosetti è un grande maestro diciamo che è uno dei primi veri maestri che si sono presentati al mondo diciamo così a far conoscere i friguli e la cucina frigulana è stato anche un precursore della cucina moderna no perché è stato il primo a presentare i piatti di cucina tradizionale è tipica va bene in una versione moderna è molto stato molto apprezzato per questo ci ha dato da insegnare a tantissimi di noi senta altri due nomi che lei vuole citare che sono un po delle icone no anche se magari sono andati avanti buon è giorgio buston posso citare beppino no dovier di grado ecco siete qua abbiamo delle eccolo qua buston il libro dedicato al maestro della cucina friulana e questo lo conosciamo molto bene è il nostro germano pontoni c'è ricambio nel vostro mondo o sì c'è esiste no perché noi noi vediamo questa fila qua davanti noi ci consideriamo cuochi del secolo scorso alla fin fine no è davvero no e chiaramente i giovani oggi come oggi hanno preso le redini in mano dell'associazione dell'unione regionale e di conseguenza adesso sta a loro a portare avanti quello che noi abbiamo buttato le basi poi vorrei anche citare un periodo storico diciamo così a san martino di codroipo al museo delle carrozze c'è un reparto dedicato ai maestri della cucina del novecento di bordo no quelli sulle navi che hanno lavorato sulle navi e anche di terra e questo invito anche tutti i friulani andare a vedere quel museo lì perché è veramente interessante vado un attimo da burba e di fatto tenga bene il microfono il suo primo piatto se lo ricorda il mio primo piatto è stato un risotto un risotto con come si è creato in cucina perché mi era avanzato era avanzata in cucina delle frataglie per così ho creato questo risotto e mi è riuscito bene da lì mi hanno dato l'input di continuare avevo 16 anni aveva 16 anni dove ha cominciato a lavorare ho cominciato a lavorare qui in friuli in diversi locali poi sono fatto l'inghilterra ho fatto piemonte ha fatto l'emigrante si andiamo da questo signore invece la sua carriera inizia quando buonasera ma io ho iniziato abbastanza presto a 14 anni quindi adesso mi trovo a 33 anni di esperienza a vent'anni anche io ho fatto l'emigrante e sono partito per la svizzera dove ho lavorato per cinque anni ed è stata un'esperienza bellissima senta qual è stato chi è stato il suo faro in cucina? io sono stato un po' sfortunato nel senso che non ho avuto una guida predominante ho dovuto un po' rubare il mestiere un po' come si faceva un po' diciamo una volta adesso è tutto un po' più facile un po' più diciamo ci sono più possibilità per attingere alle informazioni su questo mestiere insomma lei abita? a Moggio Udinese Moggio allora un saluto all'orchestra e collegium da Virgilio e Elvia e ancora un saluto ai collegium in particolare a Luciano da Consuelo ti saluta Consuelo un saluto a Ada di Lumignacco qua si salutano vicendevolmente vorrei andare un attimo con il nostro buttazione così non ci dimentichiamo dobbiamo eleggere la valletta per una sera che potrà rimanere tranquillamente al suo posto ma collegium visto che come ben sapete io faccio la battaglia sulla musica dal vivo quindi in vista della prossima estate quando chiamate le orchestre e saluto Paolo Boschiuti della Freetime che tra l'altro stasera non sta benissimo quindi non è qui con noi chiedete se suonano dal vivo visto che li pagate quindi guarda tu chiedi la batteria e la batteria rulla perché vogliamo sapere dove va il dispositivo chi è la valletta di questa sera? eccola lì venga signora venga venga lei è sensibile perché ha visto la corona me l'ha indicata lei è quasi con senso di orgoglio io avrei bisogno di una signora che venga venga lei a premiare perché finiamola con sta manfrina che è l'uomo in corona quindi lei in corona devo togliere il mio è bello allora per una sera per una sera vada 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 così così sfatiamo che l'uomo premia la donna può esserci una donna che premia anche un'altra donna perfetto allora tra l'altro signora è microfonata quindi può grazie per l'aiuto lei è due volte Lady stasera perché guardi là perché sono la responsabile regionale Lady Chef per il Friuli Venezia Giulia appunto ho preso il testimone dall'inizio che nascono le Lady Chef dal 1996 dove la cuoca Bertilla Prevedel che è la moglie del maestro Germano ha cominciato questa diciamo avventura questa novità erano in tre cuoche era lei la signora Mirka Pilon e la signora Dina che è qui presente e hanno voluto far nascere questa piccola cosa che è diventata molto grande a livello nazionale da tre quattro cuoche da questo gruppo è nato a livello nazionale siamo in 4.000 in questo momento e facciamo del bene facciamo beneficenza lei nella vita fa questo mestiere? la cuoca sì in un locale? sì in un locale che cosa le vengono meglio? I primi? I secondi? eh si è abituata a fare un po' tutto anche i dolci non posso crederle crederà qualcosa di meglio signora? ma forse gli antipasti gli antipasti? mettiamola anche i primi anche i secondi eh ok lei mi deve lanciare una cosa mi dica sì non la corona no no tutta la sera la tengo lanci la pubblicità pubblicità? grazie a tra poco molto bene molto molto bene signora buonasera buonasera lei che cosa fa qua? io sono con i miei colleghi con i miei colleghi nella vita fa la cuoca esatto mi racconta com'è addobbata oggi allora intanto visto che lei ha tanta voglia di parlare abbiamo il cappello sì che dobbiamo metterlo sempre quando andiamo fuori sì e possibilmente con tutti i cappelli dentro possibilmente buono siamo in cucina quindi dai esatto e ascolti più è alto il cappello questa è una domanda che ho già fatto un'altra volta più è importante il cuoco? no no in cucina non usiamo questo cappello lo usiamo solo per fare le uscite quando facciamo dei lavori ma fuori dalla cucina perché il cappello tocca dappertutto perfetto lei è di? di Gemona e si chiama? Manuela allora piccolo è già microfonato io sono Daniele Piccoli scusate perché si sente tutto grazie buonasera buonasera io sono Massimo Lorenzo cuoco sì basta questa fascia rossa la fascia questa rappresenta l'unico riconoscimento che la federazione italiana cuochi dà a tutti quelli che con più di 45 anni hanno fatto almeno 25 anni di carriera con questo lavoro e questo è il riconoscimento a tale a tale sforzo senta la prima volta che ha messo piede in cucina le ho sentite da chi? da un grande maestro che non c'è più Bruno Zinzone qualcuno si ricorderà perché le ha sentite? perché non credeva molto che avrei fatto strada cioè della serie tu caro non sei capace esatto e invece? e invece è andata bene è andata bene ecco abbiamo chiesto prima a Lady Chef che cosa gli viene meglio la portata per la quale lei mi stordirebbe di sicuro è una domanda è sempre difficile da fare un cuoco perché un cuoco si sente bravo a fare tutto quindi è difficile rispondere non siete mica onipotenti però no ma dentro di noi c'è un piccolo insetto che ci crede veramente quindi bellissimo se è un piccolo bella allora è una domanda che però a sto punto lei può farla a mille e nessuno le dirà mai quello che è e lei è molto geloso delle sue ricette no assolutamente no ma il ricettario da dove proviene quello che lei utilizza dal bagaglio di 35 anni di cucina al lavoro all'estero la condivisione anche adesso il lavoro che facciamo con l'associazione questo contribuisce sempre a valorizzare la nostra la nostra professionalità buonasera buonasera io sono Cire Nicola e faccio il cuoco dove? in stagione a Lignano ah quindi lei è uno stagionale l'inverno mi dedico all'associazione quindi non lavora? l'inverno faccio altri lavori con i cuochi ma mi tolga una curiosità lavorare fare stagionale sono tante ore è ancora remunerativo? dipende diciamo che può portare molte soddisfazioni se fatto bene chi sono i vostri concorrenti stranieri? tutti e nessuno ma non c'è è una balla che i cuochi italiani vengono pagati meglio e gli stranieri diciamo che il cuoco italiano viene ricercato questo sì è premiato per quello che fa? anche premiato pesce o carne? è difficile pesce per il mio caso ma senta ma questa calata dei vegani dei vegetariani una rottura per cui dovete fare magari i menù dipende allora perché purtroppo può essere una cosa vera perciò creare una malattia e quant'altro e bisogna stargli dietro e avere molta cura in questo ci sono appunto anche chi lo fa solo per moda solo per moda un piatto che le piacerebbe preparare per me stasera gliela metto così così è obbligato a rispondermi una pasta fresca pasta fresca e poi cosa aggiungiamo? poi ci ragioniamo dopo ci pensi perché torno dopo da lei questo è un altro che ha la fascia quindi ricordiamo chi porta questa fascia? ho già un po' di anni di servizio dove ha lavorato lei? io ho lavorato un po' in giro ho lavorato alla storia hanno arrivato al Moretto ho fatto delle stagioni a Lignano ho fatto anche un po' di anni come ristoratore adesso sono andato in pensione faccio ancora qualcosina vado con altri colleghi do una mano rudinese adesso lavoro senta ma è mai capitato di svegliarsi la mattina e dire non vado a lavorare vado a divertirmi? è impossibile nel nostro lavoro che ci fa un pesante diciamo che non è un lavoro da sei ore al giorno ecco mediamente quante se ne faceva lei? mediamente si va dalle dieci in più quindi mi tolga una curiosità perché i sughi c'è qualcuno che ha detto ai sughi? sì beh nella nostra catena catena diciamo di lavoro c'è dopo chiaramente adesso non ci sono più le brigate di cucina come una volta in cui c'erano dieci quindici persone e ognuno faceva una cosa adesso purtroppo in tutti i lavori si riduce il personale anche in cucina si riduce il personale ascolta leggo come fa di nome? Sergio ecco Sergio una cosa cioè se io ero il suo aiuto che non dovevo assolutamente fare in cucina cosa è una roba che le dava particolarmente fastidio? cioè se io lavoro con lei e sono il suo povero sottoposto che non so cucinare una cosa che non dovevo fare in cucina una cosa che le dava particolarmente fastidio ce n'è eh? ce n'è molto adesso si può scelterne una guarda ha già tirato fuori il canino non è facile e quindi? e quindi insomma ma se uno viene lì deve un po' rispettare quello che lo chef o quello che quello sopra insomma decide che tu devi fare o puoi fare ma l'è capitato di mandarne fuori qualcuno? beh succede adesso un po' meno perché i momenti sono più tranquilli ma quando ero ragazzo saltavano anche le pentole in cucina anche qualcos'altro ecco insomma vede la volevo ora ora questo non può si chiedere assolutamente grazie sono vicepresidente dell'associazione cuochi della provincia di Udine quanti siete? più di 200 siete a chi è che l'ha stimolata a fare questo mestiere? il signore è seduto là il signor Sergio Negro e quindi come si è manifestato? eh ci siamo trovati quasi per caso a fare una stagione a Lignano e da lì siamo andati d'accordo ha avuto pazienza ma pazienza perché? eh beh perché comunque all'inizio bisogna imparare il mestiere specialmente nelle stagioni non si ha il tempo di stare troppo dietro perché c'è tanto lavoro e poco tempo bisogna muoversi qualche urlo l'ha sentito? sì per che cosa ad esempio? un po' non me lo ricordo e lei ha rimosso ha rimosso non vuole raccontare no no lei abita dove? io abito a Gemona del Friuli a Gemona perfetto Lady Chef e dopo andiamo in pubblicità solo se le arriva il microfono ah ce l'ha scusi solo se si alza così viene ripresa meglio tra le iniziative di solidarietà che avete sposato volentieri? allora ogni anno si ripete appunto dal 96 la minestra di beneficenza che facciamo a Friuli Doc ogni anno in piazza e perciò vi aspetto al prossimo Friuli Doc quest'anno abbiamo fatto un bel evento a Cividale con una conferenza sul cuore perciò sui problemi cardiaci legati al mondo femminile che non si crede ma la donna ha molti problemi di cuore dell'uomo e da questo vorremmo anche andare avanti doniamo i soldi ad associazioni facciamo ci occupiamo anche di bambini di varie cose diciamo che con il cibo si può fare del bene sì con il cibo con il cuore insomma noi il nostro lavoro lo possiamo dare se poi qualche azienda ci dà una mano anche a realizzare dei belli eventi vengono fuori veramente delle belle occasioni di solidarietà è la sua padre? è il mio primo fan perfetto ciao Carlo sono con te Loredana di Sedegliano ho provato questo qua è un complimenti e collegium siete forti Roberta e Livio un saluto a tutti i colleghi cuochi da Eros e Luca Bincoletto vediamo dove eravamo arrivati col microfono eravamo arrivati da quella parte e lei deve dirci qualcosa buonasera no è due parole le facciamo prego prego dietro buonasera buonasera mi dica ma lei da dove arriva? perché sono qui? sì perché è qui? perché volevo venire a Telefriuli prima di tutto e con chi è venuto? sono venuto con mia moglie che è chef era maschietto all'albergo bella vista ho capito ma io vi ho divisi? mi ha diviso lei io sono abituato ad obbedire e obbedisco ma si figuri guardi possiamo fare una cosa in diretta siccome non l'uomo non divida ciò che Dio ha unito quindi guardi per l'amor di Dio guardi io propendo grazie ma si figuri guardi sarebbe abbiamo anche ecco eh lo so signora ecco se mi tiene il microfono so che è emozionata devo mettermi in ginocchio per questo momento troppo bello ma quanto ama sto uomo? tanto tanto ma di che cosa è goloso il suo marito? eh ma di molte cose abbastanza un cliente esigente ah e tipo una cosa che sa far solo lei in cucina? eh beh una cosa sola non si può dire cioè mi riesce abbastanza bene abbastanza cose e lui comunque apprezza tutte anche se qualche volta magari non sono ottime non sono ottime eh? allora distrugge le prove allora distrugge le prove da quanto è che fa questo mestiere? soltanto che da 45 anni soltanto? ma è la fascia? è la fascia l'ho dimenticata ah adesso che ormai sono eh l'ho dimenticata devo ringraziare i senta ma si dice che il calzolaio ha sempre le scarpe rotte questa è anche un'altra verità anche in cucina si cucina tanto per gli ospiti con tanta passione e poi per noi un po' meno perché c'è meno tempo c'è meno tempo e poi quando magari è un momento libero lascia un po' oppure vai a mangiare fuori perfetto oppure come hai detto vai a mangiare fuori ah proprio si senta io mi metto da questa parte e vorrei andare un attimo da Daniele se ti alzi due secondi una modalità per essere iscritti alla vostra associazione si ci si può tesserare andando direttamente sul sito della federazione italiana cuochi o andando sul nostro sito della sezione cuochi ci sono tutte le modalità per essere associati ho capito tre buoni motivi per fare il cuoco nel 2020 mi fai domande non semplicissima intanto ci vuole la passione non è che ci siano motivi per fare il cuoco o hai la passione per farlo o se no non ti riesce bene questa è una cosa importante una cosa importante secondo me è che bisognero dire che le scuole dovrebbero essere la prima parte dei studenti quella che dovrebbe dare l'aiuto agli allievi non è così? poco poco d'altronde i fondi che hanno sono abbastanza ridotti e non riescono diciamo a avere tutte le materie prime che possono avere per fare quello che si faceva una volta nella scuola alberghiere senti mi puoi spiegare cos'è quell'aggeggio questo qua è praticamente la fascia forse lo alzi un attimino così lo mostriamo praticamente è la fascia delle scoffie tieno su ancora un attimo scusa e a cosa serve? la padella niente è solo diciamo per parte della fascia un simbolo simbolo praticamente questa fascia qua viene data a quelle persone a quelli chef che insegnano che danno continuità alle tecnologie o alle tecniche che si usava anche una volta per portare diciamo ai ragazzi agli allievi quello che potrebbe essere le basi della cucina italiana o anche addirittura la straniera perché questo qua è una fascia di un esco fie francese perfetto tanto stanno andando immagini di un germano Pontoni con i capelli con i capelli con i capelli un po' più scuri quindi vuol dire che dov'è Pontoni è là adesso andiamo a trovarlo signora domani il menù che cosa prevede? sicuramente il mio menù la mia cucina è una cucina tipica io vivo in Carnia come avete sentito la gente viene da me per mangiare le cose tipiche dalla minestre che sono i nostri piatti per eccellenza sicuramente i charsons che è un piatto che dobbiamo dire che l'ha riportato sulle nostre tavole negli anni fine anni 70 in una maniera che un po' era stato dimenticato Gianni Cosetti l'ha riportato con un grande concorso dove ha fatto partecipare e ha portato nel suo albergo delle ricette di famiglia di tutte le donne della Carnia e adesso ce lo troviamo i miei charsons sono una di queste ricette poi le cose con la polenta dalla sabatino Senta ma il charson vero qual è? Non ce n'è Non ce n'è perché è una roba che mi tormenta da anni cioè vai in una vallata che il cala Anche da famiglia a famiglia nello stesso paese Ma il suo com'è fatto? Scusi Il mio è fatto quello che faccio tutto l'anno è fatto con un impasto con la pasta di patate tirata molto sottile a mano con un ripieno che sicuramente il charsons è dolce Ho capito Poi ci sono i charsons con le erbe è un piatto molto particolare della Carnia che è un piatto tipico dove però troviamo tanti ingredienti che in Carnia non ci sono e qui dietro c'è tutta una storia la storia dei Cramars e qui bisognerebbe aprire un grande capitolo Abbiamo fatto una puntata intera prossima puntata ha suggerito anche il suo amore grazie siccome mi porta bene vuol dare un bacino cambiamoci un segno d'affetto signora di nuovo caro tiè bene grazie si rialzate così vi presentiamo tutta sta fila se si alza in piedi così vi si vede meglio buonasera buonasera rapido rapido io sono quello che mi ha ti ha bombardato io sono Davide Patat lavoro al ristorante ai Celti di Marinella a Gemona ho 24 anni e sorrido e mi piace questo mestiere esatto e si vede prego buonasera 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 a tutti io sono Rino De Corti ho 19 anni e lavoro a Celsum di Paluzza e faccio il cuoco buonasera sono Davide Di Gian Antonio 19 anni e lavoro a Venzone facendo un cuoco buonasera sono Graziella Mangiano di Gemona buonasera sono Narcisa Gomboso e lavoro in una scuola materna dove? San Giovanni di Casarsa ma Gomboso è mortegliano però Santa Maria di Scraunico e scusi lei si è trasferita mi sono trasferita per amor eh sì eh sì sera buonasera sono Paola Nacci faccio la cuoca e faccio banchettistica ad esterno cosa vuol dire? vuol dire che anziché lavorare in ristorante io lavoro fuori che può essere la casa di qualcuno come potrebbe essere anche una villa che una persona va noleggiata quindi voglio dire io non so cucinare con signora anche volendo oppure se si vuole stare a casa e ospitare i propri ospiti a casa ma non si ha voglia di cucinare si chiama qualcuno che lo si fa per lui sera buonasera sono Eleonora Franco e sono di Codroipo e che cosa fa? io sono uno chef formatore per l'associazione italiana celiachia mi occupo appunto di celiachia quindi sono nell'ambito della consulenza e nella realizzazione dei prodotti senza glutine e questa è una frontiera tutta da esplorare? sì assolutamente sì ma scusi ma i celiaci c'erano una volta non c'erano una malattia che si è scoperta da poco? un'intolleranza la celiachia è effettivamente 30 anni che si studia perché poi sono andate avanti le tecnologie a livello sanitario infermieristico quindi comunque sembrerebbe che sia da prima però effettivamente lo studio sui pazienti e la ricerca è più o meno da 30 anni gli ultimi 10 anni molto più ed è qua chi che mi spiega? è lui Sergio niente stiamo preparando lo scrigno lo scrigno che sarà foderato questo stampino con del prosciutto crudo la salsa è fatta con panna prosciutto crudo adoperiamo panna perché il prosciutto crudo è molto salato e adoperando un po' di panna riusciamo a dare un prodotto quindi adesso cuoceremo i tagliolini metteremo qua e adesso abbiamo fatto la piccola variante con il radicchio di campo dato che siamo in tema d'inverno che c'è il radicchio di campo senta lei quando inizi come si chiama intanto? Negro Sergio Sergio lei è di? di Nimis di Nimis e inizia quando la sua carriera fra i fornelli? da sempre perché avevo mia nonna aveva ristorante mia mamma ristorante io a 14 anni che adesso ho 75 a luglio quindi ho fatto 65 anni di cuoco a 14 anni mi sono preso sono andato a lavorare al castello di Cividale ben 60 60 anni fa non so sbagliato tra quanto sarà pronto? 3 minuti 3 minuti quindi il tempo di scambiare due parole con il nostro Germano buonasera sempre presente grazie il piatto del 2020 secondo te quale sarà? la pietanza? il piatto del 2020 intanto dobbiamo rimanere sul nostro territorio con quello che è non l'invenzione la creatività dei giovani d'oggi perché grazie alla loro creatività l'innovazione è un prodotto di qualità di eccellenza nostro possiamo fare mille cose diciamo che abbiamo delle eccellenze conosciute in tutto il mondo e pertanto in ogni stagione abbiamo e degli ortaggi e del pesce e della carne ma quello che è più importante c'è il piacere di stare in cucina e i giovani d'oggi una buona parte ha il piacere altrimenti sarebbe altri mestieri altre professioni che li attirano allora prima della pubblicità un saluto a tutti i cuochi soprattutto a mamma Manuela Serena da Gemona un saluto all'orchestra collegium in particolare a Davide e Graziano Alice da Udine noi adesso andiamo vedo che tra tre minutini credo che arriendo alla pubblicità ci siamo quasi buonasera un saluto alla bravissima Eleonora Franco Vania questo questo è il prodotto adesso l'abbiamo messo per via televisivi tempi abbiamo già preparato lo sformatino si gira è fatto abbiamo una piccola presina di papauro e il piatto è semplicissimo si può fare a casa in un secondo bellissimo Buttazzoni questo è per te questo poi lo porto io al mio tesoro Buttazzoni senti caro Germano qua davanti abbiamo gli attrezzi del mestiere abbiamo degli attrezzi di un tempo perché adesso è alta tecnologia quindi molte cose non vengono più fatte manualmente diciamo però che abbiamo un insieme di realtà che sono sul territorio e della cucina francese e perché no della forma di trasformare e affumicare nelle cucine di un tempo lo schiacciapatate che praticamente sono degli attrezzi che oggi non vengono più usati ma secondo te perché? perché non c'è tempo? perché non vengono usati perché c'è un fattore legato alla normativa della polizia perché questi arnesi qua non possono venire lavati con quei criteri che oggi le normative prevedono perché sono piccoli perché giustamente anche il tagliere di legno è stato abolito ormai da una decina d'anni quindi alcune cose che non dico devono rimanere nel museo ma devono rimanere nella cultura di quello che un tempo ci può lasciare oggi per esempio questo strumento qua per ribissare la brovada che praticamente è un nostro che era praticamente di un locale quindi un locale dove ribissavano le rape scusa cosa vuol dire ribissare? ribissare vuol dire tagliare come fosse una grattugia ribis quello si chiama ribis no? come una grattugia faceva venire giù i filamenti proprio da brovada questo termine mi fa petire ribissare ribissare bassi ribissare tu quanto ribis eh? a bassi ribissare ribissare bassi poi è un palato fino ribissare è giornata a tutte le ore volevo andare un attimo a vedere come va la situation non vengo a controllarvi perché adesso ho il granbule i guanti monouso ci siamo? possiamo impiatare no 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 guarda a ognuno il pro abbiamo cucinato facciamo una piccola rivisitazione del piatto che hanno fatto prima abbiamo cucinato i tagliolini adesso li salteremo in padella con un sugo fatto con della panna del prosciutto crodo di San Daniele e invece abbiamo fatto una rivisitazione sul radicchio l'abbiamo sbianchito in acqua e sale raffreddato e abbiamo fatto un pesto un pesto che lo useremo per decorare voi siete destinatari 1986 nasce l'associazione dei cuochi e voi avete vinto anche qualche medaglia importante sì noi diciamo che andiamo molto spesso in giro per l'Italia anche all'estero andiamo a fare facciamo concorsi abbiamo una piccola insomma siamo 6-7 ragazzi che si muovono a fare queste gare abbiamo vinto la medaglia più importante? la medaglia più importante l'anno scorso con il presidente Daniele insieme abbiamo fatto la Mystery Box abbiamo vinto la medaglia d'Aurora in Mini in campionato italiani impiattiamo così io intanto vi ricordo che domenica saremo in diretta con il campanile da Pontebba che c'è dalle ore 10.30 perché c'è sempre l'udinese che gioca come domenica scorsa con un orario diverso dal solito e quindi da Pontebba quindi ci saranno le sculture sul ghiaccio che vi racconteremo in diretta allora invece martedì prossimo cominciamo a parlare di carnevale ho già preso accordi con la dirigente dell'istituto Stringer e quindi avremo uno studio riempito di studenti e con tutte le ricette storiche delle frittelle e dei crostoli se poi avete qualche manifestazione carnevalesca fatecelo sapere perché io mi sto già muovendo con l'associazione regionale del Proloco ma si può sempre aggiungere quindi siamo pronti per l'impiattamento direi che salutiamo Paolo Bassi salutiamo il nostro Natal Banco Audio il nostro Pierangelo Butazzoni vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con ore 7 eccoci qua siamo pronti questo nido esatto sempre per attenersi al tema scrigno scrigno esatto e questo questo non mi viene una voglia di dare una forchettata però gliela daremo finito quasi no? possiamo andare con un brano anche se abbiamo esaurito il tempo polchetta finale polchetta finale polchetta finale polchetta finale polchetta finale Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.